Alessandro Cerrato, protagonista della partita vinta per 3 a 2, il portiere migliore in campo, nonostante l'infortunio. Dici due parole sulla partita, Alessandro. Partita molto dura, molto difficile da affrontare, fortunatamente sono arrivati i primi tre punti, faremo il massimo per arrivare il più in alto possibile e più avanti possibile al torneo. Perfetto, con l'infortunio come trova sei capace? Adesso come ti senti? Ho avuto una pallonata molto forte sul naso, 5-10 minuti furia, ma poi dopo l'ha finito la tornata. Quindi è stato decisivo il tuo ritorno allora? Sicuramente, speriamo che sia decisivo anche altre partite. Perfetto, allora ti ringraziamo, in bocca al lupo, alla prossima.